Quando il mondo è minacciato, chi potrà salvarci? Io sono Iron Man! Dai creatori di Scary Movie arriva la più incredibile! La più incantevole! Dove sono? Che cos'è questo luogo incantevole? La più disastrosa! Oh, mamma! Commedia dell'anno! Ciao, amore! Disaster Movie! Amy Winehouse! Dal 10 ottobre al cinema! E can't stop!